Buongiorno, noi siamo già in clima di Calizzi. Ma che sono sti cappelli? Oggi è 18, manca esattamente una settimana. In questa ambientazione non potevamo essere... Guarda qui, siamo già seduti a tavola per il cenone. Un saluto a Montreal Decoration. E' Antonio, salutiamo Antonio. Grande affezionato di Soverattiamo.com. Guardate che scenografia oggi, oggi una grande scenografia. Sono accese anche le luci, quindi siamo... Scarset cinematografico fatto a posto per noi. Siamo a tavola per il cenone natalizio. Noi oggi pranzeremo alle 8 e mezza di mattina in pratica. Però oggi di carne al fuoco ce l'è. Innanzitutto io penso che ci sia un ringraziamento da parte nostra a tutte le persone che stanno votando... Votando da ieri pomeriggio con il sondaggio online col premio Soveratans 2012 votato. Chiediamo scusa al dottor Chieferi, ovviamente ci inchiniamo, ci inchiniamo, ci inchiniamo. No, è vero, ma io il dubbio ce l'ho avuto, però... Sì, perché zero questa volta... Sistemato già tutto? No, no, in giornata. In giornata sistemeremo, dottore. Comunque ricordiamo, il sondaggio termina il 31 dicembre alle ore 24. Ecco, salvo fine del mondo. Salvo fine del mondo perché noi... Siamo sempre qui a seguire con ansia. Siamo sempre qui a seguire con ansia. Quanto manca? Leggi? Tre giorni, quindici ore, venti minuti. No, le ore vogliamo sapere. Tre giorni, quindici ore, venti minuti e questo è il 21 dicembre a mezzanotte. Però domani e dopo domani bisognerà incominciare a fare qualcosa perché la cosa che faresti l'ultimo giorno prima di morire c'è un po' di tutto, insomma. Tu che faresti prima del giorno? Io picchierei Spielberg. Allora facciamo questa cosa domani. Domani si veda Spielberg. I giornali, i giornali. I giornali. Allora partiamo da Calabria Now, subito raccontare i fiuti a forte rischio per le festività soverato, siamo logicamente, gli operai della Gio Ambiente minacciano lo sciopero già nei prossimi giorni. Che vuol dire minacciano lo sciopero? Aspetta, aspetta, gli operai della Gio Ambiente minacciano lo sciopero già nei prossimi giorni. In vista delle festività. Vabbè, diciamo che è una cosa che si ripete a ogni lasso di tempo. Ora sono vuoti, Cassonezza, mattina l'ho visto e sono tutti vuoti. No, ma ogni tanto chiudono la discarica, ogni tanto sciopero, ogni tanto cambia l'azienda. Ma giusto per tenerci movimento, se no neanche noi possiamo scrivere. Bene, bene, bene. Allora, Laura per tutti, un dramma sulla disabilità al Teatro Comunale di Soverato nell'ambito della residenza teatrale REACT. REACT, invece qui si parla ancora del Christmas Village con il liceo artistico di Squillaccio insieme al Maiorana che sono stati ospiti e ne hanno approfittato in tanti per acquistare anche delle opere realizzate dagli alunni della scuola. Possiamo voltare pagina. Restiamo nel Soveratese perché adesso non è più l'ora di Soveratese. Quasi Soveratans sta diventando. Torre di Ruggero, grande successo per il Noccioladei, potrebbe diventare un'attrazione turistica grazie all'attribuzione del marchio IPG. Ho visto che mi esce l'ombra del telefonino, visto che abbiamo la luce sopra. E certo, certo. Eh, vabbè, succede. Una recita contro il consumismo tipico del Natale. Questo a Badolato. Centro diurni per anziani. Satriano ottiene i fondi. Lamedea strega del Teatro Comunale a Badolato Marina. A Badolato c'è una bella residenza teatrale. Quella di Migramenti. Questa era Calabria Now. Calabria Now. Passiamo al quotidiano della Calabria. E qui torniamo a Soverato con un altro problema. Gema, contratto rescisso. La società che... Ma la gente non capisce. Che è Gema? Gema è la gestione esterna del servizio idrico. La società esterna che gestiva il servizio idrico. C'è quelli che ti mandavano la bolletta dell'acqua. Sabrina! No! Dite la Sabrina! In liquidazione. La società che gestiva il servizio idrico è stata messa in liquidazione. Nell'ultima riunione il consigliere Salatino aveva presentato un'interrogazione. Davoli. 900 euro raccolti per Teleton. C'è in corso anche la raccolta benefica di Teleton. Vi invitiamo a partecipare anche a questa raccolta benefica. Sempre in questo periodo Teleton. Convegno al Guaraci con lo storico Pisani. Il patrimonio artistico versa nel degrado e non c'è nessuna politica. E qui hanno giocato a pallone in chiesa. No! La scuola calcio in chiesa. Ogni anno come di consueto la santa messa di Natale per la scuola calcio Montepaone. E Don Mimmo. Torniamo sui rifiuti ma questa volta a Davoli. A Davoli anche la raccolta è ferma. Ma è sempre la... Attenzione dal 12 dicembre. Ma quelle società gestisce Davoli? La ecologia e servizi? Dal 12 dicembre il camion della società ha bloccato i carali. C'era un vecchio detto reggino. Non lo vogliamo sapere. In quei detti sinceramente già in passato non è che hanno sortito. Mi trovate male. Ancora Christmas Village qui per la raccolta fonti che sta proseguendo comunque bene. E andiamo avanti. Cazzetta del Sud. Cazzetta del Sud. Avete visto Benignia. E dopo ne parliamo. Grazie Antonio. Secondo me dovete andare indietro. Io così. Vediamo. Cominciamo da qui. Cominciamo da qui. Esattamente. Questo è Catanzaro. Dove nemmeno andare avanti. Non lo segui. Non lo devi seguire tu. Satriano. Quarantenne stroncato da infarto mentre lavori in un apparello. L'uomo era alle dipendenze di un mobilificio. E ci dispiace. È successo nei giorni scorsi e logicamente è una cosa che... Qui c'è un po' di sport anche qui sotto. Fanno la terza categoria di Mercedes. Terza categoria calabrese. Andiamo anche a... Ma è Natale all'insegno della spazzatura. Bodricello. L'emergenza rifiuti è ormai insostenibile. I sindaci lanciano un grido d'allarme. Noi soverate abbiamo due zone critiche dove sono stati rimossi i cassonetti ma la gente continua a buttarci la spazzatura. Noi invitiamo le persone. Di fronte al mattatoio. Noi invitiamo le persone. Non ci sono più i cassonetti di fronte al mattatoio. Non la dovete buttare lì. Sono a 100 metri più in là. Perché non la buttate nei cassonetti? E va bene. Continuiamo così a fare il mare. Speriamo che per Natale insomma. Allora. C'è più spazzatura. Cosa c'è la del Mendels a Squillace? L'abbiamo già detto ieri. L'abbiamo parlato ieri. Eccolo. Sancite il divorzio con la Gemma. L'impresa è ormai al crack finanziario e i suoi uffici sono chiusi da tempo. Finisce il matrimonio del comune con la società che gestiva il servizio idrico integrato. E la gente a questo punto potrebbe dire beh non paghiamo più l'acqua. No. E poi una cosa di cui abbiamo parlato anche noi ieri. Un presepe che nasce nelle viscere terrestre e stimola emozioni. Presentato ieri il presepe del quartiere arenile. Tema carsico. Una grotta carsica. Il momento. Allora abbiamo invece. Davoli. Davoli si torna sui rifiuti. Ne abbiamo già parlato prima. Mentre assoverato Teatro del Grillo si va avanti tra mille difficoltà. E i tuoni ci accompagnano in questa insegna stampa. Non so se si sentono. Avremmo finito con... Questi sono i titoli di oggi per le nostre testate locali. E con Antonio possiamo anche... Potete portare il pranzo. Con Antonio possiamo anche scambiare due parole sul calcio 5. Visto che lui è coinvolto in prima parte. Considerate che siamo a casa tua. Fai come se fosse la casa tua. Fai come se fosse la casa tua. Insomma il calcio 5 domani è un appuntamento importante. Ricordiamo perché a Reggio Calabria si gioca la finale di... Si gioca l'ingresso in finale di Coppa Italia. E lui è diventato bravo anche a recuperare. Hai visto? E c'è paura perché penso che nel Reggino sappiamo che giocano bene al calcio 5. Giocano molto bene al calcio 5. Quindi insomma non sarà facile. C'è un gol di vantaggio da difendere. Quindi ha l'opportunità anche di pareggiare al calcio 5. Ci saranno tifosi al seguito Antonio? Non lo so. Due pullman. Tempo per mettere. Tempo per mettere. Quindi se un grosso in bocca al lupo al calcio 5 soverato... Che in campionato comunque si sta difendendo. Un grosso in bocca al lupo a Sabrina. Che in questo caso ci vuole. E anche gli altri dipendenti. Siamo vicini anche a loro. Antonio dobbiamo ringraziarlo. Ha imbandito anche la tavola. Bellissimo. Bellissimo. Venite a trovarci qui perché noi rimaniamo a questo punto. E certo. La prossima volta troverete anche un pezzo di lasagna. Ecco. Perfetto. Ecco già questo. Panettoncino. No lui non può mangiare. Ma considerato Romario anche un cornettino ci stava. E' malato e non può mangiare. Allora domani ci rivediamo per la rassegna stampa. Non vi diciamo da nobri. Io rimarrei qui. Dovevo ringraziare Antonio. Grazie Antonio. E' suo papà pure. Io vi ho trovato un cioccolatino. Ecco hai visto? Abbiamo ecco. Voi mangiate sempre. Rometto soveratiamo che apriremo questa bottiglia. insieme a voi dopo la vittoria del calcetto. Facciamo così. Facciamo così. Chiamiamo Ciccio Cento e apriamo. Anche il presidente tutti qui. Grazie a tutti. Ciao. Buona giornata. Ciao.